Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a suonamente in Mars e siamo di nuovo qui ebbene sì siamo di nuovo su Amazon benché il Natale sia già un ricordo anche se non troppo lontano perché oggi è il 27 ma siamo ancora in quella fase in quella fase di stallo dove stiamo attendendo l'ultimo dell'anno ma poi arriverà la Befana la Befana non vogliamo fare ancora altri regali perché giustamente il Natale non ci è bastato certo che sì e allora perché già da adesso non andarsi a cercare dei regali originali fantasiosi magari che non si trovano così facilmente bene io ho il prodotto giusto per voi grazie di già se potete mandare il prodotto grazie bene ragazzi oggi vi voglio ripresentare questo fantastico prodotto si chiama Facial Fitness Pao Pao Black è stato creato dalla genialità singaporese direttamente da Singapore è unico unico perché questo prodotto è un esordio o è un esordio mondiale perché non esistono altri in tutto il mondo quindi voi avete la rara opportunità di regalare un prodotto unico al mondo eccezionale ma andiamo a vedere più nel profondo le sue immense caratteristiche vediamo che questo è un prodotto cinico è un prodotto cinico un prodotto cinico che si infila in bocca voi non ci crederete ma è un prodotto cinico che si infila in bocca abbiamo addirittura due colori sia per uomo e per donne abbiamo la versione nera e oro per gli uomini e abbiamo la versione più sottile più leggera del bianco e rosa per le donne quindi ragazzi non avete più scusa dovete assolutamente comprare questo prodotto unico come potete vedere grazie regia che ci ha mandato le immagini come potete vedere voi non so se avete mai notato guardandovi allo specchio quelle fastidiose l'orfondità all'altezza delle gote che vi fa sembrare magari quello che non siete perché vi fa sembrare magari una persona in sopravveso mentre voi non siete affatto una persona in sopravveso ma queste enormi gote all'altezza delle guance e vi fa sembrare così ma e vi danno al fastidio perché guardandovi allo specchio non vi accettate e quindi magari ostentate a farvi vedere a uscire di casa per questa antipatica problematica bene oggi è risolto con la faccia al fetenese paolo lec infatti questo attrezzo cinico usato solamente per un minuto al giorno può delineare assottigliare farvi proprio demagrire queste fastidiose gote all'altezza delle guance come potete vedere vedete prima e dopo vedete la diversità ragazzi non solo perché l'attrezzo oltretutto riesce anche a delinearvi la linea delle labbra del sorriso perché l'attrezzo lavora anche sulle labbra infatti come potete vedere se voi avete un rilassamento nella parte labiale e avete come dire quella caratteristica sorriso a a u che delle volte può sembrare sintomo di una tristezza che voi in realtà non avete bene questo simpatio quattrezzo potrà delineare il vostro sorriso a farvi apparire semplicemente più sorridente più ergonomicamente allegro bene questo è il prodotto per voi ma meglio delle parole il video se la regia può mandare il video grazie 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 NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN il primo primo posto del tutto Facial fitness Pao Poi Una parte del tutto Trazione Usa La parte 2 Si Poi che è il nuovo per il peccato per fare con il paolo il paolo è un'altra mano al giorno, al giorno, al giorno o al giorno che non è un'altra di percino un'altra per il Cooking perché ogni volta che non si continuano il cyclingo di un'altra un paolo che non si accano questo è un'ang Perfetto, grazie regia per i fantastici video che abbiamo appena assistito. Bene ragazzi, come avete visto, basta semplicemente un minuto al giorno per ridurre l'effetto grasso all'altezza delle ruote. Questo magnifico prodotto è venduto per l'armonica cifra di 177 dollari. Bene sì, avete capito bene, solamente 177 dollari per un articolo che non apprezzo. E quindi ragazzi, cosa aspettare? Andate subito a comprarlo. Un ultimo consiglio che vorrei darvi a voi che ci state seguendo da così tanto tempo. Andatevi a cercare simpaticamente sul Google traduttore cosa significa PAU in portoghese. Andatelo a vedere e rimarrete piacevolmente sorprese, soprattutto per il fatto che questo aggeggio cindico si infila in bocca. Quindi ragazzi, con questa piccola chicca io vi saluto e ricordatevi... Grazie a tutti.